Ciao a tutti ragazzi al vostro Paolo Spalzo della Sette e anche questo calcio mercato invernale ce lo siamo levati dai palle tanto per fare una citazione altissima finalmente è finito il calcio mercato invernale un calcio mercato piuttosto spento piuttosto molto livello ground zero ma questo riferito a tutte le squadre parlo di serie A e parlo di serie B pesano sicuramente gli spauracchi delle plus valenze che stanno un po' inondando in questo momento e sicuramente anche in futuro il calcio italiano quindi adesso sono tutti un po' sul chi va là pochi colpi, pochissime le sorprese ultimo giorno segnato dall'immobilismo sul mercato da parte di praticamente tutti e segnato anche da molti ritardi rispetto alla deadline molti contratti non sono stati neanche depositati in tempo e c'entra anche la spalla andiamo con ordine quattro sessioni e tre acquisti per la SPAL Mattia Finotto ha casatosi al Cosenza l'ormai celebre Salvatore Esposito ha casatosi allo Spezia e proprio gli ultimi giorni di mercato Federico Pro è andato ad Ascoli e per finire Demba Tiam proprio l'ultimo giorno si è casato a Foggia in prestito quindi tornerà a fine stagione che è sicuramente una soluzione ottima per farlo giocare secondo me Tiam merita di giocare deve giocare perché potenzialmente può diventare un gran portiere tre acquisti Gianni Spettifazidis poi è arrivato Raja Naigolan lo sappiamo tutti ormai a Ferrara anche i sassi sanno che è arrivato Naigolan e l'ultimo giorno appunto per coprire il ruolo di secondo portiere è arrivato Brazao dall'Inter giovanissimo anche lui dalle giovanili per appunto coprire il ruolo di vice Alfonso salta l'ultimo secondo Augustus Carbò dal Crotone ed è un vero peccato perché a me era una punta che mi piaceva tantissimo sembrava fatto tutto fino all'ultimo secondo firme comprese non è arrivato il deposito in tempo quindi non se ne è fatto niente per tornare appunto ai ritardi ora una cosa che non mi è piaciuta di questa storia è che bollato prima come obiettivo imprescindibile voluto dal mister poi all'ultimo secondo no no tanto non lo vogliamo era un obiettivo secondario pare prima ci fosse stato un problema di software poi dopo che fosse stato anche tutto un po' rallentato dal presidente insomma non c'è chiarezza in questa cosa non mi è piaciuta questa poca chiarezza che c'è stata sembra quasi la storia della Volpe all'Uva perché dopo è stato bollato come obiettivo secondario allora tanto vale proprio non prenderlo quindi sicuramente c'è ancora in giro la storia di Rossi che lui è uno svincolato quindi c'è tempo fino a marzo però insomma non no questa cosa di Carbo proprio no o lo si prende o non lo si prende in ogni caso non è stato preso dovremo il reparto offensivo dunque si trova con una punta in meno perché è partito finotto quindi al momento rimaniamo con Monsini-Lamantia-Rabbi-Rauti che insomma dovranno asostrarsi e poi forse se dovesse arrivare Rossi in forma ecco faccio fatica a dare un voto a questo calciomercato perché si basa tutto in base alle aspettative le aspettative sono altissime quindi è un attimo deludere c'è tanta aspettativa su Negolan dopo la partita di Cagliari c'è tanta aspettativa su Feth Fazzidis dovessero essere degli ingaggi che si rivelino veramente far la differenza in questo campo allora sì che potremmo dare anche un bel 7 un 7,5 questo mercato perché ci ha dato quel quit in più che ci mancava dovessero deludere insomma sarebbe stato un mercato fallimentare non mi sento comunque di buttare la croce addosso a nessuno perché ripeto l'immobilismo di mercato è stata una costante di tutte le squadre nessuno ha speso più di quello che doveva spendere neanche un euro tutti hanno dovuto chiudere il mercato in positivo a spalla ha dovuto fare altrettanto perché di fatto venendo Esposito non ha praticamente più speso perché ha preso due svincolati praticamente e un prestito quindi spesa ho e quindi insomma va così è un periodo fatto così per tutto il calcio italiano l'unica cosa mi sarebbe piaciuto magari prendere in prestito un paio di giovani ecco quello sì tipo Cargbo però vabbè diciamo che è andata così e adesso diamo al campo la parola su quello che è stato questa sessione di mercato piuttosto scarna per chiunque e anche per ciò siamo andati alla fine del video scrivetevi nei commenti cosa ne pensate noi ragazzi ci vediamo al prossimo video e sempre forza spalla grazie a tutti